In sus habitaciones. Este es Cristiano Ronaldo, entrenando con sus compañeros. Mañana juega contra el Sassuolo y todavía no ha notado. Y hoy ha hablado su entrenador, Alegri, que ha dicho no os preocupéis, va a marcar mañana y se va a desbloquear. Tutti aspettavano Ronaldo e ha fatto con Mandzukic. Il calcio è strano per questo, è anche bello per questo. Però ha lavorato bene e domani io credo che si sblocherà a fare il gol. A Ronaldo perché? Per quello che ha fatto l'anno scorso, senza togliere niente a Modrici, ma credo che il premio lo meriterebbe assolutamente.